Scallopi Ok, scallopi Molto importante prima di cuocere è di farcire questo tipo di pesce Useremo 4 pezzi Questi sono scallopi facilmente trovati nel mercato e molto bello Il segretario per cuocere scallopi perfetti è di farcire una temperatura di olio Scallopi molto secchi e poi mettere dentro quindi continuate un po' ma continuate ad andare bene e veloce altrimenti tutti i scallopi se la temperatura non è molto alta all'acqua viene fuori All'acqua viene fuori In fine non abbiamo scallopi ma abbiamo scallopi quindi è molto importante la temperatura Grazie 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 Grazie